Beh poracci dai, è praticamente impossibile non riconoscere uno dei più grandi capolavori della storia dei picchiaduro, quel classico senza tempo di Xenophage, Alien Bloodsport, no? Io è stato il più rapido di tutti, mentre Angelo dà la risposta più sbagliata di tutte, citando anche una grandissima retrochicca, Primal Rage Quit, geniale. Va bene, andiamo avanti, dai, dica già cosa si tratta, solo risposte da tre punti, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e si va via con un po' d'ansietta. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, parleremo degli sforzi congiunti tra Bandai e Nintendo che a quanto pare stanno mettendo in cantiere un nuovo remake. Poi parleremo dell'analisi di Digital Foundry che vede nel rinvio di Breath of the Wild 2 una prova dell'esistenza di Switch Pro e infine diremo anche addio a uno degli studi di sviluppo più talentuosi che abbiamo visto negli ultimi anni. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a smetterla di comprare i giochi a caso per Nintendo Switch e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di Internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle portifiche e seguitemi su tutti gli altri social, ma proprio tutti. Bene, trovate tutti i link in descrizione, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, vi ricordate di Ajudan Chronicles? Secondo me no, e non vi biasimo. Si tratta del successore spirituale di Suikoden, una delle serie più importanti all'interno del genere dei JRPG e sebbene la sua uscita sia ancora molto lontana nel tempo, è prevista per un generico 2023, è stato confermato che il prossimo 10 maggio verrà pubblicato il suo companion prequel, Ajudan Chronicles Rising. La campagna crowdfunding di Ajudan Chronicles era stata accolta con estremo entusiasmo da parte del pubblico, tanto che il suo obiettivo principale per il finanziamento era stato raggiunto in poco più di tre ore dall'apertura della campagna. Il surplus di fondi ha permesso di finanziare la realizzazione di questo mini-antefatto, Ajudan Chronicles Rising, che sarà un vero e proprio prequel narrativo all'avventura principale. Si tratterà di un action RPG in 2.5D con elementi di town building e sarà possibile portare i propri salvataggi poi sul gioco finale. Rising uscirà su tutte le piattaforme, Switch compresa, e sarà pubblicato anche sul Game Pass al Day One. Si tratta di un evento storico, non lasciatevi sfuggire il ritorno di Suikoden, anche se avverrà sotto un altro nome. A chi invece non ha fatto per niente bene l'essere incluso all'interno di un servizio in abbonamento, è stato Oddworld Soulstorm, il remake del grandissimo seguito di Oddworld uscito per la prima volta su PlayStation 1. Per il creatore della serie, Lorne Landing, l'apprado su PlayStation Plus è stato devastante. Visto la scarsa diffusione di PlayStation 5, le prospettive di vendita del titolo erano piuttosto basse, tra le 50.000 e le 100.000 unità al lancio. L'accordo stretto con Sony, per rendere gratuito agli abbonati al Plus il download di Soulstorm, è stata una scelta dettata da necessità, che però si è rivelata un'arma a doppio taglio. Con quasi 4 milioni di download, per l'ending questo ha significato uccidere completamente le potenziali vendite del titolo, la cui diffusione è nata e morta all'interno del circolo del PlayStation Plus. Certo, è anche vero che senza i soldi dell'accordo con Sony, il gioco, per stessa ammissione del creatore, non si sarebbe riuscito a chiudere, quindi non so, la situazione non è così semplice da analizzare. Voi cosa ne pensate? Negli ultimi anni abbiamo imparato a fare i conti con gli scalper, e abbiamo scoperto che i bagarini non si fermano di fronte a nulla, e basta che ci sia la possibilità di far diventare qualcosa raro, e non si faranno scrupoli a rivendere tutto a prezzi folli rispetto a quello di listino. Dopo console, videogiochi, amiibo, carte collezionabili, ora arriva anche il turno dei Lego. Infatti uno dei bonus inclusi all'interno di Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, il Blue Milk Luke, è diventato vittima dell'attenzione dei bagarini, che stanno provando in tutti i modi a capitalizzare sul fatto che per ora la figure si può trovare solo all'interno di un'edizione che sembra diventata introvabile, e sottolineo sembra, perché in realtà al momento in cui sto scrivendo su GameStop è ancora disponibile, quindi non c'è nessun motivo di dare soldi agli scalper. E vi ricordo che per rimanere aggiornati su segnalazioni del genere dovete assolutamente entrare nel gruppo Telegram delle offerte poracce. Quindi sì, siamo di fronte all'ennesima manifestazione di isteria di massa verso il concetto di raro e introvabile. Lascia a voi commentare i prezzi raggiunti dal Blue Milk Luke. Assurdo. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Lo sappiamo, il 2022 è un anno ricchissimo per Nintendo, ma in realtà c'è ancora molto spazio per degli annunci a sorpresa. E io, tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, mi aspetto delle pubblicazioni improvvise, molto probabilmente dei ritorni di vecchie glorie. Proprio per questo, mentre possiamo aspettarci un po' i fuochi d'artificio per quello che sarà un Direct estivo e non più legato alle 3, c'è chi ha scovato degli indizi molto interessanti su quella che potrebbe essere la prossima mossa di Nintendo. Gli utenti di Resetira hanno infatti scoperto che sul sito giapponese di Bandai Namco ci sono delle posizioni aperte per entrare a far parte di un team che si occuperà di sviluppare un action game 3D commissionato da Nintendo. Le prime due posizioni, ovvero 3D action game designer e 3D action game background artist, riportano questa vaga dicitura, ma la terza presente sul sito entra un po' più nel dettaglio. Quello che cerca Bandai Namco è infatti un ruolo specializzato nella rimasterizzazione in HD di fondali in tre dimensioni, tra le cui mansioni figurano la rimasterizzazione di fondali 3D deformati, il porting di dati già esistenti di fondali 3D e l'incorporazione di dati all'interno di engine proprietari. Unendo insomma tutte queste informazioni, sembrerebbe che Nintendo abbia commissionato a Bandai Namco la remaster per Switch di un titolo appartenente al suo catalogo di vecchie glorie. È inutile ricordarvi che ultimamente Bandai e Nintendo hanno collaborato molto di frequente. La prima ha infatti dato una mano fondamentale nello sviluppo di Smash Ultimate, New Pokemon Snap, Mario Kart Tour, ARMS e non dimentichiamoci che, secondo i rumor, era anche lo studio responsabile della prima versione di Metroid Prime 4, prima che il progetto venisse raso al suolo e riaffidato a Retro Studios. Quindi la domanda da un milione di porodollari è, che serie andranno a riesumare? C'è chi parla del ritorno di Kid Icarus Uprising, chi addirittura del famigerato remake remaster di Metroid Prime 1 e chi di Star Fox Assault. Secondo voi, poracci, di cosa si tratta? Sbizzarritevi, ma ricordatevi le coordinate fondamentali. Si tratterà della remaster di un action game in 3D, quindi ad esempio niente F-Zero, che tra l'altro necessita di una bella rimessa a lucido per poter essere ripresentato su Switch, quindi escluderei qualsiasi cosa proveniente dall'era Wii U. Dai, vi aspetto nei commenti perché sono proprio curioso di sapere le vostre prediction. Ma rimaniamo dalle parti di Nintendo, perché la redazione di Digital Foundry si è sbilanciato, dando il via a una nuova ondata di speculazioni riguardanti Switch Pro. Ma cos'è successo di preciso? Durante l'ultimo podcast apparso sul canale di Digital Foundry, che ricordiamo è specializzato nell'analisi tecnica dei videogiochi, i tre redattori si sono soffermati a parlare del rinvio di Breath of the Wild 2 al 2023, e in particolare si sono concentrati sulle immagini di gameplay mostrate durante il filmato dove Aonuma dà la brutta notizia alla fanbase. Per i tre non ci sono dubbi, le immagini di gameplay presentano delle feature altamente improbabili da raggiungere con l'hardware di Switch. La presenza di anti-aliasing e delle nuvole volumetriche suggerirebbe la renderizzazione avvenuta su un hardware più potente, diverso da quello nativo di Switch. Ripeto, si tratta di pure speculazioni, e per quanto riguarda la grafica molto spesso la qualità raggiunta dai trailer difficilmente viene mantenuta nel prodotto finale, ma allo stesso tempo quelli di Digital Foundry non sono di certo gli ultimi arrivati e la loro analisi è estremamente interessante. L'ipotesi verso cui tendono è che probabilmente potremmo vedere Breath of the Wild 2 su Switch base, ma anche ottimizzato per una revisione Pro, in grado di far girare in modo più convincente il suo engine di gioco. Insomma, ci risiamo, si torna a parlare di Switch Pro, pur non avendo nulla tra le mani, certo però che quel rinvio a marzo un po' fa riflettere. Voi poracci cosa ne pensate? Ha senso tornare a parlare di Switch Pro a causa del rinvio di Breath of the Wild 2? E chiudiamo purtroppo con una notizia un po' triste, perché è giunto il momento di dire definitivamente addio a Vicarious Visions, lo studio che negli ultimi anni ci ha regalato degli ottimi titoli come la Ensign Trilogy e il remake di Tony Hawk. I profili social dello studio hanno infatti comunicato che da oggi in poi saranno completamente assorbiti da Blizzard, perdendo la loro precedente autonomia. Lo studio, pur mantenendo la stessa location fisica, cambierà nome in Blizzard Albany e vedrà i suoi sforzi concentrati unicamente sullo sviluppo di produzioni Blizzard. È chiaro che il publisher ha indisperato bisogno di forza lavoro competente per riprendersi dal periodaccio e far uscire dal pantano produzioni di grosso calibro come Overwatch 2 e Diablo 4, ma fa veramente tristezza sapere che il talento di Vicarious Visions sarà limitato da questa scelta e difficilmente l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision cambierà le carte in tavola. Purtroppo i grandi agglomerati ragionano così e molto spesso sono le realtà più piccole, meno autosufficienti a pagare maggiormente il prezzo di entrata in queste grandi realtà. Più che altro ora sarà interessante capire se Activision o Microsoft o chi per loro decideranno mai di riportare avanti una IP come quella di Crash e in caso a chi verrà affidata. Voi poracci cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 per una live sul sito Viola a tema Mario Kart, altrimenti l'appuntamento come al solito è a domani con un nuovo video qui su YouTube. Mi raccomando nel mentre voi riposatevi, fate i bravi perché bisogna sempre fare i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pro, Michele Remaster, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mi sarebbe sembrare che stavo correndo, ma perché è la seconda volta che registro tutto quanto perché mi sono dimenticato di accendere il microfono. No!